buongiorno sono lorenzo migliorini lo chef del ristorante taverna dei servi e sono qui per presentare la ricetta che proponiamo per i giovedì gastronomici i tortellini in cestino di parmigiano croccante e gocce di aceto balsamico tradizionale allora partiamo innanzitutto creando cestino di parmigiano entro l'antiaderente sul fuoco parmigiano senza aggiunta di altro perfetto adesso lo facciamo sciogliere una volta che parmigiano sarà sciolto e inizierà a colorarsi è pronto per creare il cestino lo togliamo dal fuoco lo lasciamo riposare due minuti il tempo che si raffredda e si forma il cestino poi molto delicatamente lo giriamo e lo adagiamo nel piatto questo è il cestino di parmigiano reggiano leggermente croccante una volta pronto il cestino creiamo la crema di parmigiano che sarà il condimento per il nostro tortellino versiamo un goccino di panna fresca la portiamo al giusto punto di calore e poi aggiungeremo il parmigiano e lo faremo sciogliere due bei cucchiai lo incorporiamo alla panna come vedete il parmigiano si è sciolto e ha creato una bella cremina liquida ora cuoceremo il tortellino e lo metteremo insieme alla crema buttiamo i nostri tortellini nel brodo e attendiamo circa un minuto un minuto e mezzo che si cuociono una volta che il tortellino è pronto lo scogliamo e lo mettiamo direttamente nella crema di parmigiano come vedete la crema deve essere liquida ma non troppo e neanche troppo densa questo è l'aspetto che deve avere il vostro tortellino impiattiamo il nostro tortellino nella cialda di parmigiano lo completiamo con un goccio di aceto balsamico tradizionale ecco qui il nostro piatto è pronto per essere servito vi aspettiamo tutti alla taverna dei servi per i giovedì gastronomici e tutte le altre sere